Grazie per aver guardato questo nuovo video di oggi, qui domani ho sconosciuto la P2 per Marti. Ciao Marti, come andiamo bene? Nel sposti episodio abbiamo fatto un panel record dopo 47 con Alex e oggi ci faremo un record anche con Marti. Quindi se non vedremo la scaricata di questo gioco, ma non se si tocca nella games, scaricatelo perché è davvero bello. E mi sono sponsorizzata nel gioco da culo, quindi mi sono pagato 500 euro per fare lo sponsor. Pricchiamo su Marti. Prima che qualcuno ve lo chieda, la musica sottofondo di Marti è una musica foto-meme dal livello della sorgente. E' una musica che quando entrate nel loro sorgente prima volta, ci si sta a quella missione in cui dovete fare le foto agli elefanti, alle scimmie, con Marti. Ecco, è una musica che c'è durante quell'obiettivo, perché c'è una musica personalizzata. Non è la musica normale della sorgente. E visto che la musica è l'elevante a Marti, direi ci sta a metterla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se non mi è Marti è il personaggio più difficile secondo me perché è il più grandicello. O lui o Alex sono i più grandi. Quindi è più difficili da controllare perché sono i più. Cioè più facilmente potrebbero toccare le nane perché sono grandi. Cioè sono grandi e le nane sono uguali per tutti i personaggi invece. Quindi va bene. Carissimo Marti, guardate com'è bello, guardate com'è. C'è una data. 16. Iniziamo. Alex, non ti vedo che i miei punti in dito, non sono stato io. Qualunque cosa, non lo intendi. Ma ho appena notato una cosa. Ah no, ok. Mi sembrava che c'era un bug. Pulsate il visore fixa. Ah no. Ah se esci dallo schermo a su Alex non ti faccio. Guarda bene dai. E' normale. Pensavo che ti avrei pagato tutto. E' una cosa che c'era tutto Dio. Io volevo far già la pace per il gioco. Allora. 3. Vabbè. Sono fortissimo. 1. 1. 1. In realtà conta come 0 perchè non ho preso neanche una roba caduta da terra. Con molta attenzione passiamo attraverso Nala. Mi raccomando, attenti a questo particolare. Questa è la parte più bella della musica comunque. Tadadadada. Infatti quella è nell'episodio, la sorgente di Devolta di Scripciofia. Poi in questo momento di Scripciofia che bella la Scripciofia. Beh, in effetti dai. Era la testa tua ruota che c'era quella di Managascar 1. La gente dice che c'era lo stesso postitore quella fatta. Infatti è bella. Ma quella del 2 è più bella. Con fronte a quella del 1. Quella del 1 sono 3 o 4 di musiche bellissime. Qui. Una non bellissima. Forse quella di Benvenuti in Africa. Su tutte le musiche che ci sta nel gioco penso che sì. C'è nessun gioco Africa, dico. Quella del 1 è Benvenuti in Africa ovviamente. Brave and Wild. Non è che mi piaccia poco tanto. E' bella. Però non mi piaccia tanto come le altre. Quindi, perlomeno è quella. Ecco qui che credo che non la taggia la musica. Perché la musica si è messa con una via di lupo. Perché quella della sorgente mi pare a durare tipo 2 minuti e mezzo. Questa dura un minuto, quindi è cortissima. Questa la dovrebbe essere la più corta che ho scelto al momento. Però non si nota neanche con un bel loop. Perché... Perché... Ci parlate da sola. Cioè in realtà un po' si nota però... Non ci fai cazzo. Non ci fai cazzo. Sto zitto eh, sto zitto. Sto zitto. Batto il record di Alex. Silenzio. Silenzio. Ho battuto il record di Alex con Marti. Nooo. Mi sono baciato troppo. 49. 49. Ok. E start, che è meglio. Ah, dall'altro. Me lo posso dire. Non ho un personaggio che sto lavorando per più un DLC. E con... Con un personaggio che sto testando. Non ho riuscito a fare... Mi metto qui uno screen, uno che mi ricordo, ma... Non so se lo posso... No. Ma io devo rischiare. Unco ho fatto 69 punti. Con un personaggio nuovo del prossimo DLC. Che sì, uscirà il mese prossimo dai. Penso di riuscire a finire per il mese prossimo. Ma nel dubbio uscire al trailer. Quindi... Mi avrete sempre simponizzati... Mi dicevo... Mi avrete sempre simponizzati sul canale. Puzzle Electro Games. Ora... Direi che per l'ultima volta... La facciamo ora. L'ultimo round. Se riusciamo a battere il nostro punteggio di 49 va bene. Se non fermiamo quello video. Perché è già un bel punteggio. 8... E vabbè. Ok, ragazzi. Dai, il video finisce qui. Record 49. Purtroppo 49. E da questa è il video di tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.